Prosegue la fase di radicamento nel territorio da parte di piccole e medie imprese di Ragusa. È stata infatti inaugurata ieri a Scicli, in via Colombo, la nuova sede della PMI, alla presenza di tante autorità locali, regionali e nazionali, ma soprattutto c'erano le aziende, le vere protagoniste. Lo sportello darà un aiuto pratico e concreto alle imprese del territorio, anche per accedere ai fondi del PSR, spesso vitali per molte aziende. La PMI Sicilia di Scicli è un'associazione molto trasversale, pensiamo di intraprendere delle sinergie importanti sia con gli operatori economici del territorio, quindi banche, professionisti e le altre associazioni presenti già sul territorio sciclitano. Fare associazione di impresa oggi significa insieme poter risolvere e affrontare le problematiche inerenti all'economia del territorio. Oggi le imprese stanno soffrendo, escono, siamo in una via di uscita dalla periodo di crisi e quindi hanno bisogno di professionisti. Dopo le sedi di Comiso, Ragusa, Modica e Vittoria, un nuovo tassello nel percorso che PMI sta proseguendo, per essere sempre più vicini alle piccole microimprese. Un traguardo importante per l'ente, come spiega Andrea Providenza, segretario di PMI Ragusa. Un traguardo importante per la nostra organizzazione per essere sempre più vicini alle piccole e medie imprese e alle loro esigenze. Un nuovo tassello che si colloca nell'ambito di una riorganizzazione complessiva a livello regionale e che determinerà l'unificazione di tutte le sedi provinciali e territoriali in un'unica sigla che sarà PMI Sicilia. Quindi PMI Sicilia determinerà un maggior radicamento sul territorio, più servizi per rendere le imprese sempre più competitive e soprattutto un volano importante a livello regionale per essere sempre più presenti nei tavoli istituzionali come organizzazione. La nuova sede di Scicli sarà in sintonia con l'imminente riorganizzazione che si sta programmando come PMI Sicilia. I vertici regionali dell'associazione delle piccole e medie imprese infatti hanno già messo a punto il piano che partendo da un'unica sigla per tutte le sedi provinciali e territoriali cambierà il volto dell'organismo rendendolo più snello e a misura del settore che rappresenta. Con la sede di Scicli si gettano le basi per un modello associativo sempre più plasmato sulle esigenze delle aziende del territorio come spiega Roberto Biscotto, presidente di piccola e media impresa Ragusa e vicepresidente PMI Sicilia. La PMI Ragusa è un'associazione trasversale nel senso che noi associamo imprese di diversi settori economici dall'agricoltura al turismo, dal commercio all'artigianato perché i problemi della piccola e media impresa sono diventati comuni. Nel tutto parliamo più che piccola e media ma di micro imprese. Le micro imprese in Italia sono il 98% delle imprese presenti nelle camere di commercio e sono quelle imprese che hanno meno di 10 dipendenti. Quali sono questi problemi che noi vogliamo supportare? Nell'accesso al credito attraverso il consorzio di riferimento di PMI Sicilia nell'utilizzo della nuova tecnologia perché il piccolo imprenditorio non conosce bene la nuova tecnologia. Noi per questo abbiamo stimolato la costituzione di un consorzio abbiamo proprio contribuito alla realizzazione del consorzio Sinzialia. Abbiamo messo 15 imprese assieme che consiste nella vendita online dei prodotti agroalimentari. I prodotti agroalimentari realizzati dalla micro imprese cioè da imprese con meno di 10 dipendenti.